Gesù Cristo è il re dell'universo, il re dei re e questo che abbiamo celebrato in modo solenne domenica scorsa e colui che lo crede e lo desidera davvero come re della propria vita nel suo cammino è persona che verifica se dentro di sé sta maturando il cuore umile di Dimas, il buon ladrone che abbiamo visto conquistare il paradiso in un modo veramente sorprendente. In questo senso l'avvento è un tempo molto favorevole per operare questo discernimento sulla vita, un tempo liturgico per rieducarci a vivere in una sana e fiduciosa attesa di colui che ha promesso che verrà il nostro Signore e se tu lo ami lo aspetti volentieri come quando non vedi l'ora che ti raggiunga a casa una persona che ami e che sai che sta arrivando a farti visita. Cosa si fa nel frattempo? Ci si prepara, si prepara la casa ad accogliere chi si sta aspettando e magari si prepara anche chi ti circonda a rendersi conto di quello che sta per accaderci, sta arrivando uno che ami amo. Io ricordo durante la mia giovinezza abbastanza inquieta e instabile quando una volta partii per incontrare una ragazza di cui mi ero innamorato in un modo veramente molto forte mentre ero in vacanza al mare, l'avevo conosciuta insieme ad altri amici. Lei viveva in un'altra città e allora ci si doveva incontrare dopo un paio di mesi e mi ricordo subito che quando giunsi a casa sua subito mi sembrò che non mi aspettava da sola nel senso che mi resi conto ben presto che amici, amiche, familiari e persino i vicini del suo quartiere erano stati informati e coinvolti in quella sua attesa. Ecco agire in questo modo è proprio essere gente consapevole del momento come dice San Paolo nella seconda lettura di oggi. Il da farsi di chi ama allora non è più un peso oppure se c'è un peso nel da farsi di chi ama quel peso diventa leggero, sostenibile e soprattutto San Paolo ci fa capire che si vive da persone sveglie il proprio tempo. Anzi la sua lettera è volta proprio a invitarci a svegliarci, a vivere vigilanti, capaci di cogliere cosa si cela dietro le vicende storiche che ci riguardano. Ma nello stesso tempo il Vangelo ci fa capire che non è così per tutti. Ai suoi discepoli di ieri e di oggi il Signore avverte che la sua venuta sarà come furono i giorni di Noè. Così prende l'avvio il brano del Vangelo di oggi, prima domenica di avvento. E ci possiamo chiedere come furono quei giorni? Come oggi? Molti non si accorgono di nulla, versetti 38 e 39, e vivono tranquillamente, quando notiamo quelle espressioni, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. Che espressioni sono? Sono espressioni che indicano che si vive tranquillamente come se la vita fosse tutta qui sulla terra, senza alcun orizzonte trascendente, senza una meta. Molti infatti non sono nemmeno sfiorati dal fatto che il tempo ormai si è fatto breve, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 7. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non codessero, quelli che comprano come se non possedessero. Non è un invito a disprezzare questa vita, attenzione, è un invito a dare il peso giusto, a calibrarla bene, a non fare delle realtà temporali in che viviamo la nostra eternità. Cioè molti vivranno, secondo il Vangelo, gli eventi drammatici che poi incroceranno inevitabilmente, come il diluvio si abbatté su chi non se lo aspettava. Si racconta, tra l'altro, non so se sapete questo aneddoto, che quando cominciò a circolare tra i passeggeri la notizia che quella imbarcazione incredibile che fu il Titanic, in inglese Titanic, come noi lo conosciamo, ebbene, quando cominciò a circolare questa notizia che il Titanic avesse urtato un iceberg riportando un danno irreversibile, all'inizio i più non credettero a quella notizia. Eppure noi sappiamo come è andata a finire. Ma qualche giorno fa mi è raggiunto un'altra notizia che commenta molto meglio di questa dell'aneddoto del Titanic. Due giovani che hanno causato un grave incidente, fortunatamente senza morti, ma che poteva essere con conseguenze ben più pesanti in autostrada coinvolgendo tre vetture, tra cui quella di alcuni miei conoscenti che mi hanno riportato la cosa. Ebbene, al pronto soccorso questi due giovani si sono mostrati infastiditi dal tempo di attesa dei loro controlli medici. E questo perché, e l'hanno detto proprio espressamente, perché la loro serata programmata in discoteca stava andando in fumo. Quindi la frustrazione era talmente grande che gli sembrava che in fondo non fosse successo niente di grave e che quei controlli fossero solo una perdita di tempo. Ecco, la venuta di Gesù si rivela come un setaccio sempre all'opera. Noi uomini veniamo vagliati proprio negli eventi drammatici che ci capitano nella nostra storia concreta. Spiritualmente parlando potremmo dire c'è chi continua a dormire, c'è chi si sveglia, c'è chi si trova già nella veglia, c'è chi vive in attesa, c'è chi vive senza alcuna attese, c'è chi si interroga sulle proprie attese. Il brano del Vangelo ai versetti 40-41 dice Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato, due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. È indizio, indubbiamente, di un discernimento che si opera. Ma ciò che è interessante notare è come il Vangelo mostri che il Signore viene ed opera con il suo setaccio all'interno di scene di vita lavorativa quotidiana. Come dire che ogni giorno può essere il giorno della sua venuta definitiva e dunque anche il giorno della mia partenza definitiva da questa vita. Ed ecco allora la raccomandazione Vegliate Cioè, il Signore invita i discepoli ad accettare di non sapere il giorno della sua venuta finale ma chiede anche però di riflettere sulla eventuale vigilanza di un padrone di casa che invece venisse a sapere a che ora viene il ladro. In sintesi, è come se ci dicesse Vegliate come se sapeste il giorno della sua venuta pur sapendo di non conoscerlo Vivete sapendo di non sapere Ma che significa? È che queste sono sempre quelle stupende espressioni paradossali del Vangelo Cioè il Signore Gesù ci istruisce a vivere in questo mondo da gente che si trova solo di passaggio Se infatti il figlio dell'uomo Gesù viene ogni giorno perché ogni giorno potrebbe essere quello definitivo allora non è necessario per il credente sapere qual è il giorno Vegliare infatti non vuol dire non riposare ma significa, ecco, versetto 44 Tenersi pronti C'è un'immagine che mi accompagna sempre nella mia vita, nel mio cammino la posizione fisica in cui fu trovato morto padre Emiliano Tardif un prete che all'inizio del mio cammino di conversione ha inciso molto Lui morì improvvisamente anno 1999 anno della mia ordinazione anche, mi sembra, giugno del 99 nella sua stanza di albergo in una località dove stava predicando un corso di esercizi per sacerdoti Vedendo che non arrivava per l'ultima meditazione allora andarono alla sua stanza forzarono la porta perché non rispondeva e fu trovato vestito ecco, è pronto seduto sul suo letto con la valigia pronta a fianco e la Bibbia sull'altro fianco ecco, per il Vangelo questo è l'atteggiamento decisivo da assumere di fronte alla nostra vita mortale perché il tempo che ci è donato è grazia è pieno di Dio ma non è nelle nostre mani allora il discepolo che si affida a Gesù cercherà sempre di essere pronto all'incontro e questo deve bastare in conclusione puoi tu prevedere che tempo farà? oggi sempre di più con i nuovi strumenti all'avanguardia che possediamo all'80, forse al 90% delle nostre possibilità puoi prevedere il comportamento degli uomini? anche questo, oggi sempre di più basta vedere i miracoli che fanno chi lavora nella pubblicità come riescono a orientare i comportamenti delle masse ma sinceramente non saprei percentualizzare questo puoi prevedere Dio? no, assolutamente al 100% Dio sfugge alle nostre previsioni è sempre oltre le nostre attese ma proprio per questo vale la pena attenderlo buon avvento a tutti